in quel tempo il signore designò altri 72 e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi diceva loro la messe abbondante ma sono pochi gli operai pregate dunque il signore della messe perché mandi operai nella sua messe andate ecco vi mando come agnelli in mezzo a lupi non portate borsa né sacca né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada in qualunque casa entriate prima dite pace a questa casa se vi sarà un figlio della pace la vostra pace scenderà su di lui altrimenti ritornerà su di voi restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno perché chi lavora ha dritto la sua ricompensa non passate da una casa all'altra quando entrerete in una città e vi accoglieranno mangiate quello che vi sarà offerto guarite i malati che vi si trovano e dite loro è vicino a voi il regno di dio ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno uscite sulle sue piazze e dite anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi noi la scuotiamo contro di voi sappiate però che il regno di dio è vicino io vi dico che in quel giorno sodoma sarà trattata meno duramente di quella città siamo figli di un dio che sceglie di venire in missione sulla terra come pensavamo di non diventare missionari a nostra volta la missione non è un optional per i cristiani siamo fatti così ma non per partire in chissà quale parte del mondo la missione semplicemente è uscire da noi stessi per andare incontro all'altro tutto qui la novità è nella modalità con cui gesù ci invia ecco vi mando come agnelli in mezzo ai lupi non dice andate come cacciatori in mezzo ai lupi e neppure come lupi in mezzo ai lupi nel primo caso saremo dei conquistatori nel secondo come minimo scateneremo una guerra no ci dice andate come agnelli in inferiorità con le armi del disarmo e con il rischio fattivo del fallimento quanti fallimenti viviamo ogni giorno in parrocchia nella nostra missione pastorale e la logica degli agnelli in mezzo ai lupi certo avessimo soldi poteri in mezzo a disposizione ma tutto questo non sarebbe missionario secondo il vangelo no forse il fallimento è proprio necessario sentite d'onoreste cosa dice a proposito charles de foucault no che è vissuto sempre solo e è in mezzo ai tuoi tuoi reghe e sentivo talmente il bisogno che il signore gli mandasse qualcuno a vivere quello che lui viveva che aveva scritto anche la regola di vita con i futuri suoi che dovevano venire a bene fallimento completo è morto nel 17 ucciso dai suoi tuari hanno ammazzato e poi la sua regola l'ha ritrovata dopo 17 anni nel 33 mi pare boh e un prete in crisi nel suo sacerdozio si chiamava René Guaillon si si era presa e ha detto ma questa è la vita nella sua vocazione e ha cominciato e ha fondato i piccoli fratelli di Gesù che poi in varia di una nazione 17 anni dopo la morte Milani ha segnato il corso in Italia se oggi ci sono stati gli obiettori di Cuseigo e oggi c'è il servizio civile internazionale caschi bianchi tutto dovuto a lui tutto dovuto a lui l'hanno processato per disfattismo militare è andato la scuola di Barbiana mi dispiace ma anche Franceschini e Veltroni all'inizio del loro cammino nel PD hai capito sono andati a Barbiana dicendo noi partiamo da Don Milani chi l'avrebbe mai pensato uno così rosso che davvero rosso del tutto ma anche l'altro rosso un po' più sbiadito ma rosso no? che sono partiti da uno che diceva che la religione è l'oppio dei popoli e si era sbagliato perché è l'oppio che è diventata la religione dei popoli lui non ragionava con Cristo e invece questi qua guarda chi l'avrebbe mai immaginato comunque voglio dire questi in poche parole questi profeti non hanno mai pensato di essere dei capaci loro di essere chissà chi ma anche loro con i popoli chiedevano quasi scusa di esistere ma il Signore li ha scelti per quello grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti